guarda che ora è 1 ora e 28 voglio spararmi nei piedi Cristo Santo Cristo Santo il Signore un nuovo uomo un nuovo uomo un nuovo uomo parca montana un uovo un uovo nuovo sai qual è il calciatore preferito di Paolo? Zlatan Ibrahimović mamma mia questa non è stata distrutta no 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 ma che textura è solo per rivederla sono convinto di essere stato preso sentite Xerath per caso ha una texture tipo Xerath in realtà è il più non capisco è invisibile ha le gambe invisibili Xerath per sapere signori per sapere no ragazzi sto morendo cioè fa troppo caldo fa troppo caldo signori fa troppo caldo mi passa la voglia di smattare mi passa la voglia fa troppo caldo cazzo di merda no aspetta che poi l'apo mi se sbaglia ho fatto la scrivania me la mia a montare per favore come facevi con Paolo puoi aggiustarlo si con l'apo saprai farlo oi do pro oi do pro oi do pro pronto fallito testa di cazzo oi do pro che cazzo fa questo oi racco non è paese che sarà più forte di sempre quante volte devo dimostrarvelo Sanji o Zoro naturalmente Zoro Sanji per favore ragazzi per favore c'è qualcuno veramente che pensa che Sanji sia più forte di Zoro o sia migliore di Zoro una persona che ha speso anni ad allenarsi con tre spade con tre spade Sanji è lì a dare calci ma che cazzo vuoi brutto fallito di merda una critica meno male signori meno male Masseo è stata una brutta giornata dimmi che almeno c'hai una notizia positiva dai sentiamo meno Masseo guarda ho tiltato fino adesso dimmi che è una bella una bella un qualcosa di umano fammi sentire sta clip Masseo ma qualche partita con Briz su LOL si potranno vedere in futuro ci sono già mi sa però siamo di due ELO differenti io non posso stare qui a giocare con un ragazzo che ha solo 21 titoli quando io ne ho 54 capisci è un po' sarebbe un po' umiliante per me abbassarmi a dover carriare il culo del Magister Briz con tutto il rispetto il suo knowledge è la metà del mio ragazzi proprio tutto non sa un cazzo di macro niente non sa niente d'altronde non ci possiamo di certo limitare a a queste piccolezze non è che posso stare qui e fare i duo con dei senza mani di merda i titoli per per sicurezza che credo il Masseo non abbia capito effettivamente cosa si intendeva per 21 titoli per 21 titoli intendo 21 trofei non i titoli degli episodi del collegio che si streamano che si guardano Masseo ok che cazzo devi fare con questo qua devo parlare la sua lingua devo parlare la sua lingua magari mi non parla l'inglese yo Silas oh 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 mi hanno chiesto casualmente guarda il caso cosa ne penso delle donne alla guida come rispondi faccio faccio metto le rune vi faccio venire qua la Martina così risponde lei oh sì risponde la chat come mai mi manca un copro di cerchione e il mio finestrino destra della macchina è segnato no adesso spieghi non me ne frega un cazzo stai buona ora ti sento lo stai chiesto lo stai chiesto Cristo Dio è timbola un anno magister un anno e ancora non riesco a dimenticarmi del profeta come posso fare? malve cerchione per stampante e ci devi stare mostro tranquilla Martina non è proprio il cerchione è proprio il cerchio cioè allora spiego nel senso c'è un dosso brutto brutto per andare a lavorare dove lavoro con i a lato i divisori in cemento per far passare una sola macchina per la sette marcia e io lo prendo piano di solito perché ho già tipo chiuso lo specchietto una volta quindi so che tipo ha già cambiato le rune ragazzi e quindi so già tipo no io non gliele cambio che è stretto e devo prenderlo bene quindi vado piano però a quanto pare martedì scorso non era molto piano Martina non ho preso proprio benissimo e quindi ho tipo sentito una botta e la macchina ha fatto tutto mi sono fermata subito pensando di aver preso il muro cioè preso il muso della macchina e ho visto che non c'era niente nessun danno ho detto boh a posto forse è soltanto un bel botto ma niente di che e in realtà ho tipo piegato il cerchio e fatto sparire il cerchio il cerchio della della del 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 test ecco Martina ti alzi però qua in chat mi dicono ma sono incazzata anch'io ragazzi cioè mi dà fastidio io sono incazzato che c'entri tu mi dà fastidio io sono incazzato mi dà fastidio perché non ho fatto niente ma fai il dosso hai le 75 all'ora che cazzo vuoi è 75 va a cagare tu sei incazzato io sono incazzato è 50 l'ho fatto con te quel dosso fai quello opposto alla corsia e lo fai il 70 all'ora vai a cagare 8 per 8 maniame non lo fai più finisca lei magister grazie per quello che fa no la ruota l'ho presa dopo l'hai presa due volte lo specchietto da quando ho preso lo specchietto l'ho preso sempre piano quel dosso ok hai preso lo specchietto il dopo e la ruota quando è successa 70 km all'ora ma pensavo fosse successo nella stessa occasione l'hai preso due volte voi fate una giornata al mare rilassante signori una giornata al mare rilassante tornate a casa e il giorno dopo vi trovate nella macchina senza il copricerchione con lo specchietto morto da quanto pare abbiamo capito che il meta è l'UVGister quindi da domani aspettatevi il magister col VTuber davanti con la barrucca pronto a gridare UVV gna 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 gli amete un assai il famoso era il difensivo mentre scrivo perché sono così slowato cor come fai? come fai? no 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 non può non può c'è gli predicto quella roba lì e il mio Yasuo manca il tornado bene frina come? come da stannata? come? come da stannato? pezzo di merda sono messo davanti apposta ragazzi per stopparlo come ha fatto? salta calista salta salta calista salta fratello salta di qua a fare danno al Nashor non di là su fiora buono ma giacca di senti non mi si muove al champion eh andremo forza magister la puoi slatter magister il cerbero l'ha ufficialmente invitata in live perché è stato definito personaggio tossico cos'è che mi ha invitato il cerbero non me ne frega un cazzo del cerbero che cazzo vuole? non sono invitabile Non so più voglia di smattare Non ce la faccio più a smattare Non ce la faccio più a smattare ragazzi Sono cambiato Non sono più quello di una volta Oh graffa Oh graffa Please guys I wanna I wanna I don't know You go I go Senna is real I had 34 stones in 3 minute What are you talking about We astro stomped them Ma che cazzo parla La scimmia di merda col vagliolo Ma che cazzo vuoi Bruttanetto urbino Oh graffa Secca Ma come cazzo fai a sbagliarlo No 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 Non è possibile Azir I hope your family lives in Iran I swear to I didn't say anything bad Anything bad I just hope they live there Porca puttana oh Porca puttana Schifoso inutile di merda Vaffanculo va Vediamo È la cosa che mi fa più incazzare Che non risponde La gente che non risponde Mi sta sul cazzo Non possono fare come Terenas E rispondere due volte Signori Se volete Vedete per l'Instagram Se volete invece il Twitter Ragazzi Questo Questo qui È il fottuto Twitter Anzi qua vi spiego Natti i giocatori Sven Di Ast Qui Perché sto ora Che cazzo è successo Non lo so signori Non ne ho idea Stem boss Sparapò Aggiungendo anche Sparapò Angry Panda Sven Lingard Grandissimo Duzan Grand Orzout played Silenzio signori Eclatante Che vale più di mille parole Applauso a Menito Bussolini Solo una cosa Dimmi Qualcosa di umano Per favore Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Grazie a tutti.